Parlando di economia, i giornali oggi dicono che Renzi ha abbassato le tasse, per cui tutti contenti. Questo è un mistero, solo in Italia possiamo avere un'informazione, soprattutto economica, così disattenta. Uno, basta che prendi i documenti ufficiali, non quello che dice Garavaglia, che dice la Lega. Guarda la legge di stabilità, ha legato A, tabella in fondo, e vede le entrate tributarie. Le entrate tributarie aumentano nel 2016 rispetto al 2015 di 12,1 miliardi di Euro. Allora dove sta il trucco? Matteo Renzi dice, sì, va bene, ma rispetto alla previsione aumentano meno, se no aumentavano di 24. Eh, grazie, intanto aumentano di 12 miliardi. Quindi non è vero che si diminuiscono le tasse, anzi c'è un incremento di 12 miliardi. Poi uno prende la calcolatrice, divide per gli abitanti e vede che mazzata che tocca a tutti i cittadini.